Ora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1. Ci sono 8 km di coda per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si tratta di un tamponamento avvenuto tra due camion all'altezza del chilometro 313. Sempre in 1 troviamo coda in uscita a Firenze Sud per chi proviene da Bologna. Sulla Firenze Mare i rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo alla Firenze e Pisa Livorno per traffico, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti per lavori tra Pisa Nord-Est e Gello in direzione SGC Firenze Livorno e per traffico coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, uno sguardo alle statali sul raccordo Siena-Firenze, traffico molto sostenuto tra bottai e tavarnuzze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!